Il monastero è annesso alla chiesa di Santo Stefano Protomartire a Roma, che è conosciuta anche col nome di Santo Stefano del Cacco. La chiesa fu edificata sull'area del Tempio di Iside e di Serapide, di cui sono state utilizzate le colonne del 600 d.C. e fu condotta, insieme al monastero, dai Benedettini. Con la bolla di Papa Pio IV del 1563, il complesso monastico fu affidato poi ai monaci benedettini silvestrini, i quali intrapresero notevoli lavori di restauro. Nel 1870 il monastero fu soppresso, ma successivamente furono riacquistati altri ambienti, fino a raggiungere le attuali dimensioni. Del periodo originale romanico resta solo il campanile della chiesa, che non è visibile dall'esterno, in quanto è stato inglobato negli edifici. Nel 1600 la chiesa fu trasformata in stile barocco. A tre navate, suddivise da colonne, in periodi successivi furono aggiunte cinque cappelle e nel 1668 fu anche installato il coro ligno. I marmi del pavimento provengono dall'antica basilica di San Paolo fuori le mura. Sulla parete destra vi è l'opera più significativa, la deposizione, a fresco del 1517, di Pietro Bonaccorsi, detto per Indelvaga. In alcuni ambienti del monastero è stato allestito un museo archeologico con reperti rinvenuti nel corso delle stauri. Inoltre il monastero possiede una vigna a fermicino, nei pressi di Frascati, che produce il Benedettino, vino da tavola e per la messa, amabile o secco, di 11 gradi e mezzo, che viene spedito anche su ordinazione in tutta Italia, per un minimo di 72 bottiglie da un litro l'una.